allora questa volta in fruit brawl mi prendo i gemelli qua che cazzo è la tutto laggato che cazzo è attenzione la wifi di sta minchia qua vattene via c'è un figlio di puttana di là uccidilo vinciamo 1 0 attenzione sono passati 150 anni vuoi scegliere il personaggio a noi gli avversari rimangono così mi sa dai che lo uccidano a fuangulo per quando un millimetro tra me viene a saltare vieni vai vieni vieni 3 contro 1 4 contro 1 in questo caso cosa vuoi fare comunque per chi non l'avesse ancora fatto ci sono 30 membri in questo club mio di blu stars entrate con questo tag del club qua non lo so io pensavo che il massimo era 100 30 su 30 vabbè ragazzi il club è pieno magari se volete entrare dito nei commenti che tolgo qualcuno in attivo e vi faccio entrare allora 20 star per vincere va bene cazzo 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 quasi in argento 1 manca poco manca sempre meno allora siamo a 9 ne manca una no 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 attenzione manca pochissimo no 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 poi dite che uno non deve bestemmiare come cazzo fai non bestemmiare in settanta i ho i ho i i i i i i i Grazie a tutti